Eccolo qua! Il campione che viene da Madrid a un anno in più di Riccardo Riccò. Possiamo darvi ormai il risultato della tappa, Pinotti va a vincere quest'ultima frazione, ma quel che conta per Alberto Contador è che alla prima partecipazione al Giro d'Italia, peraltro con un invito tardivo, è riuscito a mettere tutti in fila. Alberto Contador! E lo sparo! Ormai fa parte del suo essere per tutti coloro che gli vogliono bene. Alessandra a te! Auro Riccardo era veramente stanco Riccò e adesso si è seduto, credo che riusciremo a farvelo sentire tra pochissimo. Voleva sapere assolutamente tutti i distacchi. Adesso!